Siamo qui anche oggi a raccontarvi i fatti e naturalmente a sfogliare assieme i quotidiani. Andremo a dare uno sguardo al meteo, al traffico e poi parleremo di sport perché continua il nuovo percorso di avvicinamento dell'Udinese verso la sfida delicatissima di sabato contro l'Inter. Partiamo proprio dando uno sguardo a come si sta risvegliando la nostra regione. Finalmente è tornato il sole dopo giorni di pioggia. Qui siamo a grado, alcune nuvole sullo sfondo, sull'orizzonte del mare ma naturalmente il cielo si presenta azzurro. E poi saliamo in montagna, saliamo sul lussare, un lussare imbiancato dalle ultime nevicate. Anche in questo caso la giornata si presenta favorevole. Ma i dettagli del tempo che farà oggi ce li racconta Eleonora Nocente. Vi ritrovate con le previsioni meteo per il Friuli Venezia Giulia di mercoledì 1 maggio. Al mattino cielo in prevalenza poco nuvoloso. Al pomeriggio sarà possibile cielo variabile sulle zone interne. E non sarà del tutto esclusa la possibilità di qualche locale rovescio o temporale. Temperature in ulteriore lieve ripresa. Le temperature. Sulla costa 12-14 gradi di minima, 15-18 gradi di massima. In pianura 9-11 gradi di minima, 19-21 gradi di massima. A 1000 metri 8 gradi e a 2000 metri 2 gradi. Una rivederci a tutti e alle previsioni meteo di domani. Ci spostiamo ora sulle autostrade con il sito Info Viaggiando. La situazione live sull'autostrada della nostra regione in A4. La situazione è tranquilla. Non ci sono particolari criticità. Ci sono i consueti restringimenti per i lavori in corso. Dallo snodo del Lisert passando per Palmanova. E via via fino alla Tisana e Porto Gruaro. Per quanto riguarda i cantieri della terza corsia. Nessun problema al momento nemmeno sulla A28 né sulla A23 né sulla A34. Quindi una mattinata che si preannuncia tranquilla. Andiamo ora sulle prime pagine dei quotidiani nazionali. I temi che tengono banco sono da un lato il lavoro. Oggi festa dei lavoratori. E poi anche l'economia alla luce degli ultimi dati registrati dall'Istat. Partiamo con il Corriere della Sera che titola proprio Italia fuori dalla recessione. Perché? Perché i dati resi noti ieri presentano un PIL che è cresciuto dello 0,2% nell'ultimo trimestre. Tornando positivo dopo due trimestri negativi. L'Italia è così uscita dalla recessione come certifica l'Istat. Tra i giovani la disoccupazione è in calo. Salvini ritorna sulla urgenza della flat tax. Mentre c'è lo scontro in consiglio dei ministri sull'autonomia. Slitta ancora la decisione su Siri. Di taglio alto invece il Venezuela che è ancora nel caos. Gaidò dice che i soldati sono con lui. Maduro invece attacca. È un golpe. Il presidente dell'Assemblea nazionale ha lanciato un video messaggio alla nazione accompagnato da Leopoldo Lopez, storico leader dell'opposizione, liberato dagli arresti domiciliari con un blitz degli uomini fedeli allo stesso Gaidò. Il paese è sull'orlo della guerra civile. Le prossime ore saranno decisive per capire con chi si schiereranno i vertici militari. Gaidò dice Sono con me. Maduro replica. È un golpe. Durante le proteste alcuni blindati si sono mossi verso la folla. Una persona è stata investita. Oltre 50 i feriti. Tra i manifestanti ci sarebbero stati 11 arresti. Vedete proprio l'immagine dell'attacco dei blindati. Le altre notizie che troviamo sulla prima della Corriere. I guai fisici di Berlusconi, che è stato operato d'urgenza, ora sta bene. Sta bene, ha avuto un blocco intestinale. E poi il via libera della Camera, la commissione d'inchiesta sul caso Regeni. Fico, il presidente dell'Aula di Montecitorio, dice La parola di Alcisi non vale più niente. Dal Corriere ci spostiamo su Repubblica, che dedica l'apertura al primo maggio. Un solo sindacato per il lavoro. Parla Landini, il leader della CGL, che dice Non ci sono più le ragioni politiche per dividerci da Cisle Will. Dobbiamo tutelare i nuovi mestieri. Oggi, cortè in tutte le città, l'Istat annuncia una leggera ripresa. Il PIL allo 0,2%. L'immagine invece del ragazzo con il volto coperto e le fiamme alle sue spalle arriva sempre dal Venezuela con la battaglia finale. Gaidò sfida Maduro. Andiamo ora sulla prima pagina di Libero invece, che si occupa del 1 maggio e degli sciuponi del 1 maggio. In fumo 800 mila euro per il concertone pagarai, cioè noi, i sindacati festeggiano con i nostri soldi, e il Comune di Roma senza quattrini deve pulire a sue spese. Anche Libero si occupa poi di Berlusconi, ormai sta di più in ospedale che ad Arcore, è ricoverato ancora una volta. D'Averio invece si lascia andare, Juncker un ritardato mentale. Allora perché si candida con più Europa, si chiede il quotidiano. Stufa delle femministe, basta polemiche sciocche, lo sfogo di Ambra Angiolini sulle cantanti. L'occupazione aumenta ma solo per gli stranieri, in 10 anni 760 mila posti in più, per loro 640 mila in meno per noi. Da Libero ci trasferiamo ora sulla prima pagina della stampa di Torino. In apertura Orban, patto con Salvini per una nuova Europa, il PPS si allee con le destre. L'intervento del Presidente dell'Ungheria in vista del voto per il rinnovo dell'Europarlamento. E poi Venezuela, Gaido tenta la rivolta, Maduro schiera l'esercito. Continuiamo con le prime pagine dei quotidiani, il Gazzettino. La crescita c'è, la ripresa no. Il PIL torna a salire dello 0,2%, l'Italia esce dalla recessione, ma l'economia UE corre di più. Economista dal nord-est spinta decisiva, flat tax o blocco dell'IVA, il governo è diviso. A centro pagina dal nord-est un fatto di cronaca, scatole di scarpe per evadere, così giravano i soldi in nero. Padova, l'imprenditore del bello, racconta, io e lo studio PVP. E poi ancora Zaia, che sfida il Movimento 5 Stelle, decidano cosa fare, l'autonomia non diventi un'agonia. A centro pagina, Caracas e scontro finale blindati sui manifestanti. Ci spostiamo ora sul giornale che apre con Berlusconi. Berlusconi non molla verso l'Europa, ieri ricovero per un malore, poi il messaggio sono in forma, è pronto per la campagna elettorale. A centro pagina due storie, da un lato i 50 anni della Vespa che sbarca sulla Luna e poi il Giappone che vede cominciare l'era di Nanuhito, perché la parola imperatore risveglia un fascino eterno. Si racconta appunto dell'avvio delle procedure per il cambio della guardia nella dinastia che guida il paese nipponico. A centro pagina, Conte ricatta Salvini sulla flat tax e il governo festeggia per una crescita dello 0,2 del PIL. Ci spostiamo ora sul fatto quotidiano che ripropone invece il tema Siri. Rissa totale nel governo, 5 Stelle pronti sul conflitto di interessi. Conte chiede la dimissione al sottosegretario che rifiuta. Un governo tecnico, questa è una delle ipotesi che iniziano a circolare, Draghi ha altri piani dopo la BCE a ottobre. Per l'addio dalla guida appunto della Banca Centrale Europea si ipotizza per lui un ruolo in Italia. Vedremo cosa succederà. Di taglio alto ancora il Venezuela, Gaido tenta un mezzo golpe, spera in Trump, ma rimane solo per ora. Scontri con i manifestanti, decine di ferite e conflitti a fuoco tra polizia ed esercito. Andiamo ora sulle 24 ore, i temi economici. L'apertura sulla crescita del PIL in tre mesi. La stima dello 0,2% è metà di quella dell'Eurozona. Crescono comunque gli occupati. La foto che ci propone il sole in apertura parla dei cantieri San Lorenzo, gli yacht di lusso che vanno verso Piazza Affari. E poi ancora il fisco nei conti correnti personali e la direttiva del Ministero dell'Economia e Finanza, la riscossione mirata sui debitori solvibili e i crediti recuperabili. Chiudiamo con la prima pagina del manifesto e ritorna in primo piano la questione lavoratori. Nella giornata del primo maggio, Lavoretti sarà un primo maggio nel segno del lavoro povero intermittente, della crescita del debito pubblico. Nel cupo panorama, l'Istat parla di una uscita dalla rescissione tecnica al più 0,2% del PIL. Il governo si esalta, le opposizioni rispondono con Italia. Fanalino di coda in Europa. L'Italio Alto, gli esteri, Gaido chiama al golpe anti-Maduro, attacco al Venezuela, ci ha visti in piazza scontri con i pochi militari golpisti. Chiudiamo la prima pagina dedicata ai nazionali. Andiamo sui quotidiani locali per vedere i temi d'attualità in casa nostra con il messaggero Veneto. Apriamo e ritroviamo il lavoro, l'appello delle categorie alla politica della Friuli Venezia Giulia. Dalla crisi al rilancio, si mobilitano industria, commercio e artigianato. L'assessore Rosolen investano di più. La regione non è un banco. A centro pagina questa immagine ci riporta invece alle code fin dall'alba per rottamare le cartelle Equitalia a Udine nella sede di Via Mentana con la conseguenza anche per quanto riguarda la gestione delle entrate non si sono verificati comunque casi di resse o necessità di intervento di forze dell'ordine come è accaduto in altre parti d'Italia. I fatti di cronaca della giornata di ieri li andiamo a recuperare assieme in questi occhielli. Caccia ai vandali che hanno imbrattato i muri di quattro vie, è successo a Udine nella zona di Via Ronchi. In carne invece precipitati i due massi, tragedia sfiorata sulla strada per Raveo. E a Cavazzo invece c'è stato un fatto molto particolare. Un padre si è lamentato del ritardo del bus per la gita scolastica, l'autista l'ha colpito con una testata. Ad Osoppo invece un operaio si appropria di 16 mila euro e inguaia i colleghi. Sempre con la cronaca, curioso recupero per quanto riguarda un capriolo che ieri è andato a spasso per le strade di Udine. È stato recuperato grazie all'intervento dei vigili del fuoco, aveva fatto il suo ingresso anche nel cortile di una scuola. Andiamo all'interno per approfondire questi temi con i dati sull'occupazione e le categorie economiche che si appellano alla politica. Partiamo con Anna Mareschi Daniele, numero uno di Confindustria Udine, che dice Ora servono misure di ampio respiro, uno dei punti di forza del nostro sistema produttivo e tradizionalmente costituito da un capitale umano di alto livello che riflette una proverbiale cultura dell'impegno e dell'attaccamento al lavoro che è propria di questo territorio e che dobbiamo a tutti i costi preservare. Michelangelo Agrusti, collega e leader degli industriali di Pordenone, spiega Sono le imprese che creano occupati. Rispetto alla crisi oggi c'è una ripresa del lavoro anche se quello stabile non è ancora ai livelli che desideriamo e che perseguiamo. Giovanni D'Apozzo, presidente di Commercio e della Camera di Commercio, dice che la fiscalità e gli oneri sono le zavorre da togliere. Dobbiamo essere consci che il lavoro non si crea nel breve termine con provvedimenti estemporanei, ma attraverso politiche che diano la fiducia necessaria alle imprese per investire e la possibilità di creare occupazione. Graziano Tilatti di Confartigianato, una cultura del fare, quella necessaria per il futuro, c'è bisogno di una rinnovata cultura del fare, di rispetto per il lavoro e speriamo che il primo maggio inauguri da questo punto di vista una stagione nuova. Questi sono a centro pagina i dati invece resi noti dall'IRES sugli occupati in regione. Allora andiamo a riascoltarli nel servizio a cura di Angela Caino. Quasi 8.000 occupati in meno in 10 anni, conseguenza della crisi ma anche delle dinamiche demografiche che nell'ultimo decennio hanno visto una netta flessione del numero di residenti in età lavorativa, 33.000 in meno. E' quanto emerge da un'indagine su dati Istat del ricercatore dell'IRES, Alessandro Russo. A fine 2018 gli occupati in Friuli-Venezia-Giulia erano 510.800 unità, 7.700 in meno, l'1,5%, rispetto al 2008. Eccezione fatta per Trieste, tutte le province hanno una variazione negativa. Udine presenta il passivo maggiore con meno 8.500 unità. E' cresciuta la componente femminile, più 3,6% rispetto a 10 anni fa. Diminuita invece quella maschile, 284.000 in valore assoluto, meno 5,2%. I lavoratori inoltre sono mediamente più anziani, anche per via delle dinamiche demografiche. Meno 26,8% tra gli under 45, più 41% tra gli over 45. Aumenta inoltre la quota di chi ha una laurea o un titolo di studio superiore. Ma sono tanti i giovani con elevati livelli di istruzione che migrano all'estero. Nell'ultimo decennio è cambiato anche il tessuto produttivo, con una forte contrazione del lavoro indipendente, meno 10,3%. Un aumento di quello dipendente a tempo determinato, più 40,9%. E una notevole espansione del part-time, spesso involontario, più 22,6%, che riguarda un quinto dei dipendenti in regione. Una tendenza legata allo sviluppo dell'attività del terziario e di professioni prevalentemente a bassa qualifica, in settori come commercio, alberghi e ristoranti, servizi alle famiglie o pulizia. Per chiudere, il tasso di disoccupazione, che rimane elevato, 6,7% nel 2018, come l'anno precedente. Dieci anni fa era al 4,3%. La crisi, conclude il ricercatore dell'IRES Alessandro Russo, non è ancora stata superata. Che cosa dice la Regione? L'assessore Rosolen agli imprenditori parla così. Più investimenti per l'occupazione. La Giunta è pronta a fare in pieno la sua parte. Mi aspettavo però una tendenza minore alle delocalizzazioni. I sindacati di oggi hanno capito che non serve più la contrapposizione. Lasciamo ai temi del lavoro. Continuiamo con le altre pagine del Messaggero Veneto. Ci occupiamo di Regione. Da un lato, una novità importante per quanto riguarda la salute e la ricerca. Basterà una goccia di sangue per la diagnosi di recidiva. Dalla Lilt, 80 mila euro per il progetto RIF dell'Università della Suiud e del Cro. Puglisi, vogliamo intercettare le cellule tumorali prima che siano visibili alla TAC. Il caso poi che arriva da Pordenone ritorna sullo stress da Whatsapp. I genitori si danno delle regole. C'è un decalogo contro i troppi messaggi in chat, soprattutto in quelle dei genitori, per le scuole che dal gruppo Whatsapp alla terapia di gruppo è un attimo, dice Matteo Maria Giordano, formatore del progetto educativo. Per quanto riguarda invece l'economia, ieri c'è stata l'assemblea del Consorzio Agrario, si è parlato di tanti argomenti, dei germogli a rischio, delle api e si è fatto il punto proprio anche sulle prospettive per quanto riguarda la nostra regione. Francesca Santoro ha ascoltato Elsa Bigai, direttore generale proprio del Consorzio Agrario, che fa il punto sulla moria delle api, sull'inchiesta in corso e sulle prospettive del settore. Ricordo che senza api non esiste agricoltura, non esiste possibilità di impollinare, perché certamente in parte viene fatto in maniera spontanea dalle specie vegetali, ma i pronobi sono i primi alleati dell'agricoltura, quindi gli agricoltori hanno tutto l'interesse a difenderli e per questo, ripeto, la stessa comunità europea nell'attuale politica agricola comunitaria, ma anche in quella che si prospetta per il 2021-2028, proprio in premia e incentiva questo tipo di attenzioni che servono all'agricoltura, ma servono alla collettività in senso più ampio. Una questione che è stata affrontata anche oggi nel corso dell'Assemblea, perché è un tema sempre caldo. Lei oggi tiene in mano un sacco, non a caso, di cosa si tratta? Un sacco di faccelia, che è una specie vegetale, che può essere seminata dagli agricoltori e che è una di quelle specie che vengono definite mellifere o vessillifere. Hanno dei fiori molto vivaci, che richiamano le api, e gli agricoltori, come abbiamo potuto spiegare molte volte in riunioni partecipatissime, e ce ne sono moltissimi che non stanno già facendo, possono seminare nei terreni che sono obbligati a tenere a riposo per effetto della politica agricola comunitaria. Hanno la possibilità, anzi la comunità europea, diciamo, premia questo atteggiamento utile alla collettività e al territorio, appunto mettendo queste specie che continuano a fiorire per lunghi mesi e di conseguenza le api trovano una zona attrattiva, una zona di alimentazione, una zona dove sono anche protette da qualsiasi tipo di trattamento, perché è un terreno a riposo. Stiamo proponendole anche come riscoperta della tecnica agronomica unitamente ad altre specie, che si chiamano specie da sovescio, quindi che vengono seminate, poi vengono rivoltate nel terreno e migliorano la struttura, la qualità, ma anche, appunto, eliminano paradossalmente anche da infestanti che sono magari resistenti, difficili da combattere con prodotti chimici. Dal Consorzio Agrario al Consorzio delle Latterie Friulane, perché ritorna d'attualità al processo su latte contraffatto, sono stati chiesti 21 anni di carcere, la vicenda dei tre dipendenti dell'allora Consorzio di Campoformino e di altri tanti allevatori e produttori per il caso delle aflattossine. La difesa ha respinto le contestazioni e ricordato i controlli seguiti alla segnalazione. In Cassazione, nel ricorso, il PM parla della pericolosità dopo la miscelazione. Sempre per quanto riguarda l'economia, invece, novità positive su Serenio Orizzonti, che fa shopping in Baviera, un'operazione da 30 milioni di euro. Il gruppo di Blasoni ha acquistato le residenze per anziani ad Augusta e a Schillersee. L'azienda udinese si espande per la prima volta all'estero, un utile di oltre 11 milioni anche nel 2019. La crescita è a due cifre. Il fondatore appunto del gruppo, leader Massimo Blasoni, tra i player leader in Italia di questo settore. Andiamo in città, andiamo a Udine con le pagine dedicate al capoluogo friulano. Da un lato la rottamazione delle cartelle di Equitalia, un'attesa infinita, la coda è arrivata in strada. C'è chi si è preso il posto dall'alba, pur di guadagnare appunto i primi posti in fila, ieri l'ultimo giorno per sanare le posizioni col fisco. Sul fronte multe, invece, è stato un anno record per la città. Nel 2018 tesoretto da oltre 4 milioni, già incassati 1,3. Sono stati staccati 54 mila foglietti rosa grazie alle telecamere. Lunedì sera al Carnera, più di 40 auto pizzicate in divieto. In città, ieri, ci sono state anche le segnalazioni di diversi imbrattamenti sui muri degli edifici di Via Ronchi, in quattro strade protagoniste le bombolette spray, tra Via Ronchi, appunto, Via Chinotto, Treppo e Scrosoppi, le telecamere al vaglio dell'arma. In comune, invece, dopo il Consiglio Comunale di lunedì, c'è il caso delle quote rosa per legge. La Lega dice no, scontro tra donne in Consiglio Comunale. È stata respinta la mozione a sostegno del Comitato 50-50. L'assessore alle pari opportunità, Elisa Asia Battaglia, ha dichiarato che le sfide si vincono sul campo. Le cariche pubbliche devono essere affidate in base al principio della meritocrazia. Altra occasione persa per risolvere la disparità che penalizza l'universo femminile. è stata la replica di Cinzia del Torre dell'opposizione. Lasciamo le pagine del messaggero, ci spostiamo sul gazzettino con l'apertura del dorso friulano. Profughi dagli hotel alla caserma, la Croce Rossa, dopo l'iniziale rifiuto, ha accettato la richiesta di proroga della Prefettura per ospitarne 250 per qualche giorno. Il prefetto Ciumi dice la tradizione di altruismo della CRI non si è smentita entro luglio, ci sarà una nuova gara e non escludiamo gli alberghi, dice sempre il prefetto. Centro pagina ritroviamo il capriolo che è finito nel cortile di una scuola di Udine e poi il lavoro. 8 mila i posti svaniti in dieci anni, abbiamo ascoltato prima i dati dell'IRE, Sudi nella maglia nera, male anche Pordenone, Trieste in controtendenza. Sicurezza, basta torpore, ci vuole più. Più sensibilità e quanto ha detto invece Adriano Luci nell'ambito di un convegno proprio sulla sicurezza sul lavoro ospitato in Regione. Bilancio positivo per il Consorzio del Montasio con tanti segni più e nuove politiche di marketing. Di taglio alto invece abbiamo altri spunti, c'è la storia che aveva risollevato proprio aere il gazzettino sul Benzacchi, il ristorante condotto da ragazzi diversamente abili. Dopo l'appello del papà di Chico arriva Riccardi e quindi un segnale di interesse alla situazione del locale. Un'anticipazione di sport che andremo a trattare tra poco nella seconda parte. L'Udinese in ritiro dopo la nuova Batosta con gli elogi per la buona prova contro l'Atalanta. Pozzo piace fare i conti al momento che quelli sportivi tenono ancora rosso. Occorre far capire ai giocatori che bisogna chiudere la pratica prima dell'ultima giornata di campionato. Andiamo all'interno per approfondire alcuni di questi argomenti. Ritroviamo il caso dei profughi trasferiti fuori dagli hotel. al 250 andranno la Cavalzerani. La Croce Rossa ieri aveva detto no alla proroga fino al 5 maggio ma poi ci ha ripensato il prefetto entro fine luglio il bando per sistemare tutti anche negli alberghi. Andiamo a recuperare poi anche le altre pagine del Gazzettino dedicate ai temi regionali. Da un lato autovie, nessuna nuova nomina. L'assemblea fissata per lunedì mattina si mira a non esaminare il punto del rinnovo delle cariche un modo per far restare al timore gli attuali amministratori. Forza Italia rivendica da tempo un posto di prestigio. E poi il caso dei lavoratori. In dieci anni persi 8 mila. Udinese e la maglia nera in Regione. Ancora dalle pagine interne del Gazzettino a Pordenone ci spostiamo sulla questione sanità con i sindaci che confermano Simon. Lasciatelo fino a fine anno. Questo è l'appello, il documento votato dai primi cittadini. Un documento inviato dalla conferenza dei sindaci alla Regione. Una seconda raccomandazione poi a Riccardi. Si rivedono i trasferimenti alla sanità del territorio. La Regione invece accelera sulla selezione e rispunta il nome del manager Zanelli che aveva già guidato l'azienda sanitaria della destra Tagliamento. Strade pericolose, il freno del comune, arrivano i velo ok anche nella città del Noncello. I rilevatori saranno piazzati in 12 tratti considerati ad alto rischio dalla polizia locale. L'assessore aumentate le pattuglie, le telecamere saranno una dozzina. A proposito di destra Tagliamento andiamo a vedere anche il messaggero di Pordenone che continua a omaggiare la promozione della squadra in serie B. Pordenone dice e grazie. Vedete questa bella foto in copertina con Martina De Lazzari e una creazione della sua fioreria. Testimonial dell'inserto dedicato alla promozione del Pordenone oggi in edicola ma sul fronte invece cittadino l'apertura riprende proprio i temi sanitari che abbiamo visto poco fa ovvero la richiesta dei sindaci di più fondi all'azienda sanitaria e Simon rimanga fino a fine anno. 26 i comuni presenti di tutti i colori politici che dicono no al commissario. Ci spostiamo ora nell'Isontino la prima pagina di Gorizia ci parla della fondazione Carigo che stanzia 2,8 milioni ma la tassazione pesa come un macigno l'incidenza fiscale è salita dallo 0,5 al 24% in 17 anni la fetta maggiore di finanziamenti andrà al sociale stiamo parlando della cassaforte dell'Isontino così viene definita proprio la fondazione e la relazione della presidente dice basta attacchi pretestosi pretendiamo il rispetto non si può pensare all'ente come uno strumento solamente di qualcuno. Andiamo a vedere ora l'apertura del piccolo invece che ci propone di taglio alto la mappa delle crisi industriali in regione 2000 i posti in bilico il fluo di Venezia Giulia le prese con i nodi della disoccupazione a centropagine invece pochi anziani i frati abbandonano il santuario dell'isola di Barbana la notizia dovrebbe venire ufficializzata oggi nella comunità cattolica Pascal Porre i frati infatti che vivono sull'isola della laguna gradese che da quasi un secolo gestiscono il celebre santuario se ne vanno pochi anziani non ce la fanno più ancora non è chiaro chi prenderà il loro posto vedete un'immagine proprio della processione votiva del pardon si parla poi sul piccolo di Illica Feieri sono stati resi noti i dati di bilancio dopo l'assemblea dei soci un anno da record Pogliani dice siamo pronti alle sfide con i big e poi sempre dalla piccolo una questione sanitaria sulla sanità tristina paga di mezzata in subbuglio i barelieri negli ospedali e poi sulla questione del termine al passeggeri il tira e molla di NAP alla fine si è dimesso ci fermiamo qui per questa prima parte con la nostra rassegna tra poco torneremo assieme per parlare di sport di Udinese ma non solo